Musica Gli utenti di assist sportivo ben trovati con questo appuntamento speciale di fine anno è tempo di bilanci in casa Udas per questo ci troviamo qui con il presidente primo tifuso di Biancazzurri Giuseppe Di Giorgio Presidente è stata una stagione sicuramente esaltante, emozionante per il basket, un po' sorprendente anche per il risultato finale per la palla a volo le sue impressioni a freddo a fine anno? Sì, sono stati due campionati esaltanti senza dimenticare anche il campionato che abbiamo svolto federale di serie D di tennis tavolo però ovviamente qua parliamo di basket e palla a volo per quanto riguarda il basket come tutti sapete siamo arrivati quarti nella stagione regolare poi siamo usciti nei quarti di finale dei playoff per quanto riguarda la serie D di palla a volo abbiamo portato a termine questa stagione centrando il risultato della promozione in serie C sul campo quindi un bilancio molto ma molto positivo per entrambe le squadre, le due prime squadre Ad inizio stagione quali erano gli obiettivi sia per il basket sia per la palla a volo? Sicuramente per il basket noi abbiamo iniziato una stagione un po' in emergenza in quanto come sapete tutti abbiamo avuto delle difficoltà oggettive da un punto di vista dell'organizzazione societaria nei mesi di luglio e agosto e quindi abbiamo allestito una squadra in emergenza però nell'emergenza siamo riusciti a fare una squadra molto competitiva ovviamente da matricola il nostro obiettivo nel basket era quello di centrare la salvezza e ci siamo riusciti e poi ovviamente l'aspirazione nostra era senz'altro quella di arrivare nei playoff e alla fine ci siamo riusciti certo con un po' di amare in bocca siamo usciti contro abbiamo perso nei playoff contro una squadra che nella stagione regolare avevamo battuto sia all'andata che al ritorno quindi diciamo che era nelle nostre corde probabilmente fare qualcosina in più però ripeto accettiamo di buon grado il risultato sportivo in campo questo per il basket per quanto riguarda la palla a volo ovviamente stesso concetto anche con la palla a volo purtroppo quest'anno non siamo riusciti a programmare nei tempi opportuni e quindi abbiamo dovuto allestire una squadra anche lì in emergenza però siamo stati fortunati e siamo riusciti a centrare anche l'obiettivo della promozione in Serie C Il suo ricordo più bello a fine anno? Ma io a te ho già parlato di questa cosa uno dei ricordi allora da un punto di vista sportivo sicuramente la vittoria sul campo del Nardò che come tu sai come sapete proprio in questi giorni ha vinto lo spareggio per arrivare insomma la finale per arrivare in Serie C1 noi siamo riusciti a vincere forse siamo stati l'unica squadra ad aver vinto sul campo del Nardò Ostico un campo veramente difficile abbiamo fatto forse una delle partite più belle memorabili della nostra storia della palla a canestro da un punto di vista umano il mio primo pensiero va a quell'episodio della partita contro il Trani in casa quando negli ultimi minuti hanno fatto entrare in campo i nostri avversari un ragazzo diversamente abile al risultato già acquisito però voglio dire è stato un bellissimo momento in quanto tutto il palazzetto tutte le 400 persone del palazzetto hanno applaudito il canestro o i vari canestri che poi sono stati concessi al Trani al ragazzo insomma di poter effettuare Proiettandoci sulla stagione di basket ha qualche rammarico per come è terminata? Ecco ripeto ovviamente dobbiamo ricordarci sempre il punto di partenza e quindi da questo punto di vista sono molto contento della stagione certamente la sconfitta contro l'Adriabari lascia un po' di amaro in bocca perché era nelle nostre corde anche perché poi con le prime tre della classe abbiamo sempre effettuato delle partite alla pari li abbiamo vinte tutte abbiamo perso e abbiamo vinto in casa e fuori casa a seconda poi dei nostri avversari quindi diciamo era nelle nostre corde stare lì nei primi quattro però ci rifaremo l'anno prossimo Secondo lì dove e in che mudo bisognerà intervenire per migliorarla questa squadra? Ma sicuramente oggettivamente la nostra squadra era una squadra molto forte come quintetto base che però lasciava desiderare per quanto riguarda la panchina una squadra un po' corta e quindi sicuramente dovremo migliorare da quel punto di vista partendo ovviamente dal nucleo di quest'anno, degli atleti di quest'anno Capitolo parla a volo quanto la sorpresa la promozione degli uomini di mister Ferraro? Ma non mi ha sorpreso perché io conosco Roberto Ferraro mister da anni so che è una delle eccellenze cerignolane nel settore della pallavolo insieme al direttore sportivo della pallavolo Michele Valentino che ha anche esperienze come allenatore in divisioni nazionali quindi sapevo che il settore pallavolo quest'anno era in buone mani e abbiamo ottenuto dei grossi risultati sia come prima squadra che come settore giovanile quindi è vero parliamo di prime squadre però la stagione è stata esaltante per l'Udas per quanto riguarda il settore giovanile sia della pallavolo che della pallacanestro perché siamo riusciti a costruire uno staff tecnico molto importante sia nell'una che nell'altra divisione e con un grosso risultato in termini numerici di atleti di piccoli atleti che si sono iscritti nell'Udas e che ci hanno seguito insomma è un'associazione in forte crescita adesso abbiamo il problema degli spazi e questo è un problema che affronteremo con l'amministrazione comunale veramente siamo in difficoltà nel senso che abbiamo tante richieste ma non riusciamo probabilmente l'anno prossimo non riusciremo ad accontentare tutti da questo punto di vista Assicura a tutti i tifosi appassionati di volley che questa promozione conquistata comunque meritatamente sul campo non resti solo un sogno? No, io non posso assicurare nulla dunque il discorso è questo così come nel basket le prime squadre dipendono dagli sponsor che si avvicinano perché non sono autosufficienti da un punto di vista economico mentre i settori giovanili hanno una loro si chiude il cerchio da un punto di vista del bilancio e quindi si riesce a pagare tutte le spese che ci sono durante la stagione ovviamente le prime squadre hanno dei costi elevatissimi e quindi dipende tutto dagli sponsor noi ci stiamo mettendo alla ricerca di sponsor importanti anche per la pallavolo e quindi per poter effettuare un campionato di serie C di pallavolo perché anche in quel settore abbiamo tutte le carte in regola per poter far bene Personalmente la carica del presidente richiede tempo, energie, responsabilità perché no anche sacrifici lei sta pensando in un certo senso a dimettersi o comunque è pronto a ricaricarsi a ripartire anche per la prossima stagione? Ecco, questo apri un capitolo difficilissimo dunque, come sai io faccio un altro lavoro gestire un'associazione sportiva di queste dimensioni una polisportiva di queste dimensioni ti assicuro non è compito facile sto tentando di coinvolgere più persone di convincere all'interno dell'associazione altre figure professionali che sicuramente saranno all'altezza di poter prendere il mio posto anzi faranno sicuramente meglio però ovviamente fino a quando non si concretizza un'ipotesi del genere io per senso di responsabilità rimango per dare comunque la continuità a tutto il movimento io spero al più presto che si possa concretizzare questa ipotesi in cui io potrò dare il mio contributo ma non avendo la responsabilità del tutto cioè rimarrò in associazione senz'altro però immagino che da qui se non è quest'anno l'anno prossimo qualcuno mi dovrà sostituire senz'altro Proiettandoci già sulla prossima stagione di basket si vocifera una rivoluzione in casa Udas lei assicura che si ripartirà dalla base solida dello scorso anno su tutti Sierra su Sbieles o c'è qualche progetto nuovo voi in mente No, ripeto intanto un'idea ce la siamo già fatta ma è prematuro parlarne sicuramente la squadra sarà rafforzata rispetto all'anno scorso il nucleo degli atleti che hanno ben figurato l'anno scorso verrà riconfermato quindi grossi stravolgimenti non ce ne saranno però ovviamente ci sarà qualche sicuramente qualche qualche chicca di mercato senz'altro ve la ve la promettiamo ecco questo senz'altro noi non ci vogliamo più nascondere ovviamente dobbiamo fare dobbiamo ripeterci come campionato quindi dobbiamo fare senz'altro un campionato di vertice avete già individuato qualche nome ha già in mente qualche nome per la prossima stagione? è inutile c'è qualcosa bolle qualcosa in pentola però onestamente non mi sento di dare delle risposte anche perché nulla di concreto ci sono già dei contatti importanti con degli atleti seri professionisti di categoria però nulla di concreto ecco che campionato si aspetta e soprattutto quale sarà il vostro obiettivo? ripeto noi dobbiamo confermarci senz'altro e dobbiamo tentare di fare meglio quindi sicuramente promettiamo alla tifoseria un campionato di vertice per chiudere con l'occasione per ringraziare qualcuno in particolare? certo io ringrazio sicuramente tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano e quindi a partire dal gruppo alimentare Castellano all'agente generale Allianz e a tutti gli sponsor che ognuno a loro modo hanno contribuito in questa stagione però voglio ringraziare non solo gli sponsor ma voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno dato una mano per portare avanti questa stagione sportiva e ringrazio anche i tecnici del settore giovanile perché secondo me loro sono i pilastri dell'associazione sportiva perché le prime squadre vivono di cicli quindi ci sono delle variabili che non dipendono dal saper fare ci sono delle disponibilità che possono venire meno però l'ossatura di un'associazione sportiva sono i dirigenti che ringrazio e i tecnici noi quest'anno abbiamo fatto uno sforzo grandissimo per quanto riguarda il settore giovanile faccio un nome su tutti che è quello di Giovanni Rubino che è un'eccellenza nel settore del basket che ha dato una linfa importantissima a questo settore in questi giorni stiamo programmando mi piace sottolineare questa cosa stiamo programmando un Eurocamp a Matera e quindi l'Udas il settore giovanile dell'Udas sarà presente in un camp in un torneo internazionale che inizierà domenica prossima a Matera che vedrà coinvolte società da tutto il mondo ci sarà anche l'Udas in questo quindi ci saranno 12 ragazzini il 2002 2003 che faranno questa esperienza vivranno una settimana in un camp in una struttura ricettiva a Policoro nei pressi di Matera e vivranno un'esperienza di vita eccezionale e poi avranno la possibilità di confrontarsi con il resto del mondo con un torneo veramente quotato un torneo internazionale e quindi questo è il nostro fiore all'occhiello diciamo terminerà la stagione sportiva con questa bella esperienza che faremo provare ai nostri ragazzini del basket ringraziamo il presidente Di Giorgio per questa intervista ci auguriamo di ritrovarlo anche il prossimo anno in prima linea diamo appuntamento a tutti gli appassionati di basket per la prossima imperdibile stagione per assist sportivo Fabio Trallo Grazie a tutti